Ciao a tutti, io sono Maria Giulia e oggi vi porterò a scoprire il Museo Riso che si trova nel centro storico di Palermo. Andiamo! Per raggiungere il museo dal quartiere Brancaccio potete prendere il tram e raggiungere la stazione centrale. Da qui vi consiglio di fare una bella passeggiata a piedi di circa un quarto d'ora. Percorrete la via Macheda fino ad arrivare ai quattro canti. Dedicategli qualche minuto perché ne vale veramente la pena. Da qui svoltate a sinistra in direzione cattedrale e percorrete Corso Vittorio Emanuele. Il Museo Riso si trova al numero 365 di fronte Piazza Bologni. Ed eccoci arrivati. Questa è la storica dimora di Palazzo Belmonte Riso nel cuore del centro storico di Palermo. Il palazzo è stato realizzato a fine Settecento dei Principi Bentiviglia di Belmonte ed è una importantissima residenza privata nobiliare. Dopo anni di abbandono e di degrado però nel 1986 il palazzo venne acquistato dalla regione siciliana che negli anni 90 ne effettua i lavori di restauro trasformandolo in uno spazio espositivo dove ha sede dal 2005 il Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia. Ok, adesso entriamo e scopriamo la collezione. Ovviamente gli artisti sono tanti e non posso mostrarveli tutti ma ve ne mostrerò solamente i primi dieci. La prima artista di cui vi andrò a parlare si chiama Carla Accardi. Carla Accardi nasce a Trapani nel 1924. Dopo la sua prima formazione in Sicilia si trasferisce a Roma nel secondo dopoguerra. L'opera di cui vi vado a parlare si intitola Rotolo ed è stata creata nel 1964. Il soggetto di quest'opera sono delle sinuose linee monocrome di colore rosa che si accostano in diagonale su fogli in sicofoil. La particolarità di quest'opera sta nella sua tridimensionalità e nel fatto che l'osservatore può girarvi attorno e può guardarla da diversi punti di vista e vedere come la luce attraversa l'opera che la illumina in trasparenza. Il secondo artista di cui vi vado a parlare si si chiama Pietro Consagra. Pietro Consagra nasce a Mazzara del Vallo nel 1920 e ha vissuto per un periodo anche a Milano. Dopo aver compiuto i suoi studi presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo si trasferisce nell'immediato dopoguerra a Roma. Nel 1952 crea l'opera intitolata Plastico in bronzo. È un'opera a metà tra la pittura e la scultura in cui è evidente e drammatica la carica semantica del materiale che è rafforzata dalla spietatezza formale. I contorni della struttura sono frastagliati e non concedono lo spazio al passaggio della luce. Il terzo artista di cui vi vado a parlare si chiama Yannis Cunellis che nasce nel 1936 ad Atene e si trasferisce a Roma nel 1957. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti organizza la sua prima mostra personale alla galleria La Tartaruga. A partire dal 1963 comincia ad indagare su nuovi linguaggi basati sull'uso di materiali primitivi quali legno, piombo, sacchi di juta, semi di caffè e carbone. Nel 1993 all'albergo delle povere di Palermo espone la sua opera che si chiama Senza titolo. Consiste in armadi sospesi al soffitto con le ante aperte. Con questa sua opera lui vuole scoinvolgere le leggi gravitazionali e ovviamente la concezione dello spazio. Il quarto artista di cui vi vado a parlare si chiama Richard Long. Nasce a Bristol nel 1945 e appartiene alla cerchia di artisti camminatori mossi da ragioni etiche ed ecologiche riconducibili alla Land Art, movimento che si colloca nell'ambito dell'arte concettuale. Una delle sue opere più famose si intitola Circle of Life del 1997. L'opera è realizzata in pietra di Custonaci ed è stata allestita presso la fondazione Orestia di Digibellina, secondo le finalità del museo diffuso sul territorio. È una reinterpretazione della versione in perlatino di Sicilia, raffigurante un cerchio che è raggiato ed è già stata realizzata nel 1997 presso i cantieri culturali della Zisa. L'opera rappresenta un cerchio di pietra con all'interno degli assi che rappresentano i punti cardinali. L'asse nord-sud rappresenta l'asse magnetico della Terra, quello est-ovest, il percorso del Sole. Il cerchio di pietra è di circa 7 metri di diametro. Il quinto artista si chiama Mohamed Elbaz, nasce in Marocco nel 1967 e lavora in Francia e poi a Casablanca in Marocco. L'artista si interroga sul concetto di frontiera e dei territori e su tutto ciò che costruisce barriere tra gli individui. Tra le sue opere abbiamo una intitolata Fuck the Death. Quest'opera viene rappresentata sul muro. Su questo muro abbiamo il disegno simbolico di una spada che allude alla forza, al coraggio e al valore. Su questo muro sono poggiate delle mensole con sopra appunto delle bottiglie Molotov che riportano i nomi di artisti italiani dal dopoguerra a oggi. È un omaggio agli artisti italiani. L'arte è vista come uno strumento per trasformare il mondo, per superare la morte, per superare i confini territoriali, la forza esplosiva della cultura. Il sesto artista di cui vi vado a parlare è Alessandro Bazan. Nasce a Palermo nel 1966, è un artista energico e comunicativo e inizia ben presto ad esporre nel capoluogo siciliano. Nel 1989 ottiene un primo spazio espositivo presso la galleria La Robinia. Negli anni successivi presenta i propri lavori in Italia e all'estero, disponendo esposizioni personali o prendendo parte a collettive in spazi pubblici e privati. L'opera che vi vado a mostrare si intitola Cacciata ed è del 2005. Nella composizione sono presenti suggestioni bibliche e di arte antica. Tutto però è riveduto e riscritto attraverso presenze ed apparenze assolutamente contemporanee, richiamando da vicino un altro suo dipinto che si intitola Gli Antinaturali, che è stato appunto dipinto pochi mesi prima. Il settimo artista si chiama Francesco De Grandi. Nasce a Palermo nel 1968 e inizia la sua attività partecipando ad una collettiva nel 1993, all'età di 25 anni. Nell'arco della sua carriera trentennale ha esposto i suoi lavori in contesti prestigiosi, sia pubblici che privati. Dal Palazzo della Farnesina al centro Peci di Prato, dal Palazzo Ducale di Lucca al Maxi di Roma. Una delle sue opere più famose è Senza Titolo, dove appunto ci si imbatte in paesaggi immaginari abitate da mute forme viventi che ci interrogano, come evocate da uno spazio e da un tempo non più catalogabili. Anche qui la figura non si mai nella sua interezza, ma è sempre colta solo per due terzi, a sottolineare un disarmonico e mai compiuto rapporto col contesto che l'accoglie. L'ottavo artista di cui vi vado a parlare si chiama Andrea Di Marco. Nato a Palermo nel 1970, fa parte del gruppo di artisti che ha operato nel capoluogo siciliano a partire dagli anni 90, nel solco di un recupero consapevole della pittura quale linguaggio privilegiato, ed è un esponente di spicco della nuova pittura siciliana e allestito personali in diverse città italiane e partecipato a collettive di rilievo. Uno dei suoi dipinti più famosi è Rete Arancio, in cui dietro lo scenario in primo piano, probabile cantiere in stato di abbandono, l'apparente calma fa intravedere e intuire paesaggi esotici e sognanti, le cime delle palme e i gabbiani. Lo sguardo dell'artista registra dati ed elementi fotografati dalla realtà, trasposti sulla tela in maniera apparentemente mimetica, di fatto con ricercati slittamenti visivi che sembrano alludere ad un ermetismo di marca montaliana, pronto a cogliere il senso segreto delle cose, vicine a tradire il loro ultimo segreto. La non artista di cui vi vado da parlare è Loredana Longo, che nasce nel 1967 a Catania, dove vive e lavora. La ricerca dell'artista si costruisce su un doppio binario, dal forte impulso autobiografico. Da un lato la stessa immagine della Longo diviene centrale in fotografie, installazioni, video e performance. Dall'altro la sfera familiare, ed è questo l'elemento saliente nella produzione degli ultimi anni. Nella sua opera intitolata Souvenir numero 3 Family Portrait, l'artista costruisce un muro, ne arreda i due lati in modo diverso, perché è un muro, è una struttura che divide uno spazio e potrebbe rappresentare anche la separazione fra due ambiti familiari totalmente diversi. Un lato del muro riflette una situazione che riconduce ad un trascorso personale utilizzando oggetti provenienti dalla propria famiglia, l'altro ciò che potrebbe essere dietro ogni muro. L'azione della costruzione è seguita da una fase di distruzione. L'artista spara al muro colpendo quegli oggetti che le appartengono, i proiettili attraversano la parete, un gesto violento che investe la sua sfera familiare ma inconsapevolmente anche un'altra. Subito dopo prende un flex una sega circolare ritagliando una parte del muro, sottraendola come succede con un souvenir. Il muro, crivellato di colpi, poi rigidamente tagliato con il flex, ridotto ad una porzione di memoria e tradotto in una ricostruzione che rimanda alla sua primaria innocenza. La decima e ultima artista di cui vi voglio parlare oggi si chiama Paola Pivi, nasce a Milano nel 1971, vive e lavora in Alaska. Una delle opere più famose è l'opera senza titolo, esposta in occasione della mostra personale dell'artista al macro di Roma nel 2004. In quest'opera Paola Pivi ha fotografato sott'acqua l'isola di Alicudi, dove ha passato lunghi periodi tra il 2000 e il 2005, creando un effetto quasi pittorico. In questa opera Paola vuole donare allo spettatore un'immagine che rappresenti quasi un gioco di prestigio, una discesa della percezione alla visione sensibile della totalità immersa nell'acqua, nei riflessi che mutano lo sguardo rendendolo molteplice, mutevole ed infinito. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro tour. Queste erano solamente alcune delle opere e degli artisti e della bellezza che potrete assaporare all'interno del Museo Riso. Adesso non vi resta che andarvi di persona, ovviamente quando potrete. Intanto un saluto da me e dai ragazzi del progetto La mia città senza confini, cofinanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà. La mia città senza confini, cofinanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà.